Ciao a tutti e benvenuti su Digital Best. In questo video vi presento il test di volo del drone Absan H501S nella sua versione Advanced. Si tratta di un quadricottero di cui ho già parlato in un precedente video tutorial dove spiegavo le varie impostazioni, i vari settaggi e tutto ciò che concerne diciamo la preparazione del drone prima del volo. Se non avete ancora visto il video tutorial teorico e volete vederlo potete trovarlo nella scheda informativa in alto a destra. Cliccando sulla scheda avete la possibilità di scegliere di vedere per primo il video tutorial teorico. Vi ricordo che questo quadricottero in particolare non necessita di avere alcun patentino o licenza ma come tutti i droni necessita naturalmente di rispettare le normative attualmente in vigore. Vi consiglio di fare una ricerca in internet per conoscerle nel dettaglio ma posso anticiparvi che diciamo le più importanti sono quelle di evitare naturalmente le zone no fly che possono essere aeroporti, musei o altre zone di questo tipo che molto spesso vengono segnalate proprio per evitare il passaggio di droni e anche quella di non volare su centri abitati quindi di evitare di volare dove ci sono altri gruppi di persone. A questo punto vi auguro buona visione e vi lascio al test di volo dell'Absan H501S. E partiamo naturalmente dal decollo. In questo momento mi trovo già in modalità GPS ed effettuerò quindi un semplicissimo decollo. In basso a sinistra potete vedere anche il punto di vista del drone. come vedete anche lasciando i comandi la stabilità di questo drone è davvero ottima. Sappiamo tutti che nelle giornate ventose è meglio non utilizzare i droni e naturalmente ve lo sconsiglio vi posso assicurare che dai miei test l'Absan H501S si comporta molto bene ed ha una grandissima stabilità anche con il vento. Naturalmente sto parlando del normale vento che si può incontrare in una qualsiasi giornata. In questo momento sto spingendo la leva dell'acceleratore dell'Absan e poi la lascio di colpo per farvi vedere come funziona il suo riposizionamento grazie al GPS. Cosa vuol dire? Cioè che nel momento in cui noi lasciamo i comandi l'Absan si stabilizzerà nel luogo in cui noi abbiamo lasciato i comandi. Quindi non andrà avanti ma farà una sorta di frenata per poter stabilizzarsi nel punto preciso in cui noi abbiamo lasciato i comandi. Questa non è una funzione scontata nei droni con GPS ma anzi ci sono e ho visto e ho anche provato droni con GPS integrato che hanno praticamente il mantenimento dell'altitudine attraverso il GPS ma non della posizione. Quindi quando noi lasceremo i comandi il drone in questo caso andrà avanti per inerzia. Nel caso dell'Absan invece abbiamo un vero e proprio riposizionamento automatico. Adesso invece proverò a fare un atterraggio preciso con l'Absan. Lo farò atterrare esattamente sulla croce arancione che ho precedentemente disegnato a terra. Gli atterraggi con l'Absan sono particolarmente facili perché ha un baricentro molto basso e quindi praticamente quasi impossibile ribaltarsi a meno che non si fa un atterraggio particolarmente brusco e possiede dei gommini sotto ognuno dei quattro bracci che evitano atterraggi duri. Forse da questa prospettiva non si vede molto bene la croce arancione ma vi assicuro che l'ho fatto atterrare proprio lì come avete visto anche con molta semplicità. E il poter atterrare con facilità in un punto preciso con i comandi manuali è molto importante in un drone per evitare naturalmente schianti, ribaltamenti oppure di atterrare dove c'erba troppo alta o dove ci sono sassi o cose insomma che vogliamo evitare. Adesso farò volare l'Absan a pochi metri, in certi casi a pochi centimetri dal suolo e lo stresserò un pochettino per farvi vedere come reagisce a cambi di rotta repentini, a curve molto strette eccetera eccetera. Vedete come riesco a sfiorare il terreno con semplicità e come mantiene sempre una sette e una stabilità veramente ottime nonostante diciamo lo stress di questo tipo di volo. Tenete conto che io non sono un pilota provetto, ho una certa esperienza perché l'ho usato per per un certo periodo ma sicuramente non sono un pilota professionale. In questo momento invece mi trovo in modalità altitude hold cioè senza gps, modalità in cui il drone è meno stabile ed anche più difficile da controllare. Inoltre senza gps quando lasciamo i comandi il drone come potete vedere nel video continuerà la sua corsa per inerzia e non si fermerà cioè diciamo non si auto riposizionerà come nel caso del gps. Riguardo ciò infatti è molto interessante la possibilità di recuperare al volo il drone semplicemente azionando la leva del gps come sto facendo proprio in questo momento. la modalità altitude hold è una modalità che potremmo chiamare sportiva dove il drone fondamentalmente va molto più veloce ma come dicevo prima è molto meno governabile di quando abbiamo azionato il gps e quindi la possibilità di recuperarlo al volo semplicemente azionando appunto la leva del gps è una sicurezza in più che ci permette di avere maggiore tranquillità durante i nostri voli. Fate attenzione a passare da luoghi all'aperto a luoghi al chiuso come sto facendo in questo momento perché il drone perderà quasi istantaneamente la connessione con il gps quindi vi troverete a passare dalla modalità gps alla modalità altitude hold con tutti i rischi che ne conseguono bene questo primo video dedicato ai test di volo dell'absan h501s finisce qui naturalmente spero vi sia piaciuto e vi sia stato utile vi ricordo che nella descrizione del video trovate tutti i link per poter acquistare l'absan h501s ai migliori prezzi disponibili e riguardo questo vi comunico che il prezzo di questo drone è sceso ulteriormente in particolare su gear best se presente una flash sale e ultimamente è presente abbastanza spesso lo potete addirittura pagare meno di 200 euro compresa la spedizione prioritaria in italia a quanto ne so io a questo prezzo non esiste nulla di meglio e quindi se stai cercando un drone per iniziare oppure per passare di livello e avere un drone più avanzato rispetto al tuo vecchio quadricottero che ha solo l'altitude hold l'absan h501s è il meglio che puoi trovare al minor prezzo se il video ti è piaciuto come sempre ti invito a lasciare un like e se vuoi anche un commento e naturalmente ti invito anche ad iscriverti al canale ricordandoti di attivare la campanellina se non vuoi perdere neanche una novità di digital best ai prossimi video e prossimi test di volo dell'absan h501s un caro saluto a tutti ciao grazie a tutti